Siamo un'azienda leader, alzi la mano chi come me non ha idea di cosa voglia dire questa espressione, specie in Italia dove viene usata in maniera, sembra, estremamente casuale. Tutte le aziende sono leader di tutti i settori e oggi sono quindi qui in questo video per spiegarvi cosa vuol dire azienda leader, almeno nell'ambito di G2, una delle aziende di recensioni, aggregatori di recensioni più grandi al mondo, e come ho portato l'azienda per cui lavoro, Software.io, proprio da zero, a leader nel settore del no-code, quello in cui appunto operiamo, proprio su questa piattaforma qui. Quindi almeno cerchiamo di confinarlo in una definizione precisa e soprattutto vi dirò cosa abbiamo fatto, perché è stato utile per noi, per la nostra crescita e come potete provare a farlo anche voi. Allora, intanto parliamo meglio di G2. Ho notato vari founder, persone con cui ho parlato di recente, mi hanno contattato magari dopo aver visto video sul canale, non considerano molto questi tipi di canali o magari non li conoscono. G2, Capterra, SourceForge, sono tutte piattaforme che sono una specie di TripAdvisor, però per il mondo del software, a volte anche altri verticali, però ci interessa più spesso il mondo del software. Quindi un'azienda come magari Shopify ha una serie di recensioni che non vengono lasciate solo sul sito di Shopify, quindi Shopify se la canta e se la suona da soli decidendo cosa mostrare e cosa no all'interno della propria landing page. Ma queste recensioni vengono lasciate su siti di terze parti, tra cui per esempio G2, e le persone possono quindi vedere una serie di commenti sui prodotti che siano più imparziali, perché appunto lasciate su un altro sito, verificate da un'azienda che non ha conflitti di interessi, almeno in teoria non dovrebbe averli, io ancora non ne ho visti, e quindi sono siti su cui chi compra fa affidamento maggiore tendenzialmente, sia perché magari è nel processo di acquistare Shopify e quindi decide di andare a verificare che effettivamente le recensioni siano positive, sia perché magari non ha ancora deciso che software di e-commerce usare, e quindi va su G2, va su CapTerra, cerca all'interno della categoria e-commerce e vede quali sono le top 1, 2, 3, 4, 5 aziende che si occupano di quel settore specifico. Che cosa vuol dire azienda leader in questo senso? Non è in realtà super ben definito, da parte di G2 almeno, però quello che vi interessa sapere è che loro hanno vari quadranti, ok? Questo è una cosa che viene ripresa anche da Gartner, che è un'azienda che fa cose simili, però su una scala diversa, per aziende che vendono a aziende molto più grandi, Gartner che tra l'altro è proprietario di CapTerra, però insomma non entriamo nei casini, nei dettagli più tecnici. Quello che ci interessa sapere, fondamentalmente prendono le aziende che sono più in alto in termini di quantità di recensioni, e quindi quante persone si stimano o utilizzino il prodotto effettivamente, e qualità delle recensioni stesse. Quindi questo tool ha magari 5 stelle, però ha ricevuto solo due recensioni durante l'ultimo trimestre, allora non possiamo considerarla un'azienda leader, perché magari ci sono aziende che hanno di media 4 stelle, 4 stelle e mezzo, però hanno ricevuto mille recensioni, che è tre volte di più del secondo classificato. Allora a quel punto, chiaramente magari la prima azienda rientra nel quadrante dei prospetti, che potrebbero diventare leader delle aziende che sono apprezzate dagli utenti, ma che ancora devono crescere, mentre invece quelle con più recensioni, quelle più stabilite, ma che comunque sono apprezzate dagli utenti, saranno leader. Perché ci interessa tutto questo? Sicuramente perché più in alto siamo nelle classifiche di questi prodotti, più recensioni abbiamo, più sono positive, più le persone che stanno navigando su questi siti avranno la possibilità di trovarci in alto, e quindi di trovarci prima, e quindi di registrarsi per utilizzare il nostro prodotto. Poi perché molte di queste piattaforme all'interno del loro sito, che è un aggregatore, che riceve tanto traffico anche per esempio da Google, che riceve tanto traffico diretto, c'è la possibilità di o cliccare per andare a finire sul nostro sito, e quindi riceviamo traffico molto probabilmente qualificato direttamente sulla nostra landing page, oppure perché hanno la possibilità di compilare un form e diventare in un certo senso una lead. Quindi io dico, sono interessato a comprare Shopify, compilo questo form, non so se Shopify ce l'abbia, probabilmente no, però compilo questo form e poi qualcuno del team di vendita di Shopify mi contatterà perché ho dimostrato questo mio interesse sulla piattaforma di recensioni che sto vedendo. Un'altra cosa importante e interessante che molte di queste piattaforme fanno è quello di fornirvi del materiale per il vostro marketing. Quindi se siete un'azienda leader, se avete un customer support team che è particolarmente apprezzato e menzionato nelle vostre recensioni, oppure se siete particolarmente forti in certe aree geografiche, in Europa, negli Emirati Arabi Uniti e in Cina, insomma ci sono varie segmentazioni, ok, negli Stati Uniti, in Nord America, allora potreste ricevere questi badge extra che vi dicono siete un'azienda leader nel 2023 in questo settore, siete un'azienda leader nel 2023 in quest'area geografica, oppure siete l'azienda top per customer support. Tutti questi badge poi, diciamo, tendenzialmente dovete pagare per avere accesso al loro utilizzo, però li potrete riutilizzare all'interno del vostro sito, all'interno della pagina dove si chiede di fare sign up, all'interno delle vostre sequenze di mail, spesso e volentieri potete mandare dei link a The Report creati proprio da queste piattaforme che mettono in comparazione il vostro software con quello di competitor, mostrando dove le recensioni fanno vedere che voi siete superiori, quindi magari avete un competitor che su queste piattaforme ha recensioni più negative, potete far vedere un grafico in cui fate vedere tutti gli aspetti delle recensioni in cui avete una media più alta, per esempio se avete una media più alta nella facilità di utilizzo, nel rapporto qualità-prezzo, e queste possono essere tutte aggiunte al vostro marketing che vi aiutano a convertire in percentuale più alta clienti che magari stanno pensando di registrarsi al vostro sito, stanno pensando di acquistare il vostro prodotto, eccetera, eccetera. Quindi sono delle cose che possono avere un riscontro quasi tangibile a livello di pagamenti, se avete un alto volume potete fare i b-test, per esempio nella pagina di sign up, tra una pagina dove chiedo di registrarsi senza il badge di G2, una pagina con quel badge, che dice che sono un'azienda leader del settore dove lavoro, c'è effettivamente una differenza di registrazione rilevante a livello statistico oppure no. Se c'è, quanto è grande? Quante persone in più si sono registrate in percentuale a causa di questo badge? Quanto ho speso? E in questo modo potete anche andarvi a calcolare direttamente il ritorno sull'investimento. Un altro punto aggiuntivo, che è valido solo per alcune di queste piattaforme, almeno che io lo sappia, è che vi offrono la possibilità di migliorare anche il lato SEO. Infatti hanno alcune integrazioni con vari motori di ricerca che vi permettono di mostrare nel vostro snippet sulla SERP, quindi per esempio quando le persone cercano il vostro brand su Google, vi permettono di mostrare qual è la media delle vostre recensioni su questo sito. Per esempio nel nostro caso noi abbiamo 4.7, 4.8 su G2, allora a questo punto su Google appariranno le 4 stelline e mezzo, non penso ci sia 4,8 nello specifico, con scritto accanto 4,8 e questo sarà un'informazione immediatamente visibile anche a chi sta scrollando Google, cercando per il nome del vostro brand e questo può aiutare a aumentare il click sulle vostre pagine. Quindi cosa abbiamo fatto noi per raggiungere questo obiettivo nell'arco di appena tre mesi e cosa vi consiglio di fare? Non sto qui a svelarvi segreti particolari, anche perché non penso ce ne siano di enormi, semplicemente vi dico quelle che sono un po' le linee guida che condividono piattaforme di questo tipo e la mia esperienza. In generale una cosa che assolutamente funziona è quello di avere dei messaggi automatici che vengono mandati alla fine di un'interazione con il vostro team di supporto, quindi magari avete intercom, avete i soliti chatbot all'interno del vostro prodotto che servono nel caso in cui le persone abbiano dubbi o domande su come utilizzare una specifica funzione. Bene, alla fine di queste interazioni sapete che questi chatbot chiedono come è andato Tommaso nel supportarvi per risolvere questo problema? Se le persone danno 5 stelle, allora voi potete avere un'automazione che gli dice grazie mille per averci recensito così bene, siamo contenti che Tommaso sia stato bravo, perché non vai su G2 e ci lascia una recensione? Perché non vai su Capter e ci lascia una recensione? Altra cosa interessante è che G2, se pagate il loro piano premium, tra virgolette, vi dà la possibilità di dare delle gift card in cambio, quindi questo chiaramente è un incentivo importante, perché altrimenti le persone sono molto meno incentivate a lasciarvi una recensione, però anche dando una gift card da 10 dollari, di solito questi sono un po' i numeri che giustificano l'effort, sopra i 20 dollari diventa troppo costoso e la percentuale di persone che lo fa in più forse non giustifica, non è che da 20 a 40 si raddoppia il numero di persone che seguono la call to action, quindi the sweet spot sembra essere tra i 10 e i 25 dollari, almeno da quello che mi hanno detto e per il nostro tipo di prodotto, e voi potete dire appunto lascia questa recensione, ti diamo anche 10 dollari di gift card su Amazon, è tutto gestito da G2 in questo caso, poi ogni piattaforma ha il modo diverso di funzionare. Un'altra cosa che potete fare è aggiungere il link per lasciare la recensione all'interno della vostra email o all'interno dell'email del customer support, quindi io sono Tommaso, customer support agent, mando l'email a Francesco per dirgli che ho risolto il suo problema e ok il discorso dell'automazione, però anche all'interno di un'email normale Francesco può vedere che Tommaso ha scritto lasciaci una recensione su G2 e vinci una gift card di Amazon da 20 dollari, e quindi in maniera organica tra virgolette Francesco potrebbe decidere di dire sai che c'è, mi ha dato una mano e adesso vado a lasciare una recensione e mi prendo pure questi 20 dollari da spendere su Amazon o su qualsiasi altro sito. Poi un'altra cosa che ha funzionato abbastanza per noi è quella di pubblicizzare questa opportunità, di lasciare una recensione nelle varie newsletter product update che mandiamo a tutti i nostri utenti, in particolare quando magari ci sono annunci particolarmente interessanti che le persone apprezzano, questo porta un buon numero di recensioni ai vostri profili e sicuramente può aiutare. Ma chiaramente quello che aiuta più di tutto è avere un prodotto effettivamente buono. Se il vostro prodotto non è all'altezza riceverete delle recensioni mediocri, ok? C'è poco da fare, non è che riuscite a convincere qualcuno a lasciare delle recensioni che non siano veritiere, anche perché questi siti sono abbastanza controllati. Io vi posso dire che noi già in passato abbiamo ricevuto dei tentativi da parte di competitor di lasciare delle recensioni a zero stelle e sono stati sgamati subito, ok? Quindi è interessante, è successo più di una volta. Verificano che effettivamente anche le persone che lasciano delle recensioni positive siano utenti del prodotto, non siano in mala fede o non siano, come dire, in certo senso corrotti per lasciare recensioni troppo positive. Quindi sono dei sistemi che premiano la veridicità, premiano la vera esperienza dei vostri utenti. Se voi offrite un'esperienza suboptimale otterrete dei risultati suboptimali anche su queste piattaforme. Quindi questo è il primo punto. Il secondo, che ho visto funzionare molto molto bene, è avere un team di supporto clienti che sia ottimo. Non l'ho menzionato così tante volte in questo video per caso, ma posso dire che per quanto io abbia gestito questa iniziativa all'interno dell'azienda, il 90% dei risultati sono dovuti all'ottimo lavoro che il nostro team di customer support fa tutti i giorni. Tant'è vero che è la cosa che è menzionata più spesso all'interno delle nostre recensioni, forse è anche la voce di recensione dove abbiamo il voto più alto e quindi assolutamente è un qualcosa da tenere in considerazione. Se avete questi chatbot dove magari siete disponibili 24-7, siete particolarmente disponibili verso i vostri clienti, li prendete per mano, gli date quello che gli serve, siete gentili, bene, allora assolutamente questo vi darà un boost su tutte queste piattaforme. Poi un'altra domanda è magari quando investirci effettivamente. Non è un qualcosa da fare se siete startup in pre-seed, forse anche in seed. Più vendete a aziende medio-grandi, forse più rilevanti queste piattaforme diventano. In base al vostro settore, in base a quanto grandi siete, ci sono alcuni seed più importanti di altri. Quindi per esempio se vendete a Fortune 500 Company, allora magari Gartner diventa la piattaforma più interessante. Se vendete più mid-market, forse G2 è quella più interessante. Per alcune industrie, alcuni verticali, CapTerra potrebbe essere una buona alternativa, anche se CapTerra è un po' diverso. Su CapTerra poi c'è un sistema di costo per click, non dovete pagare per avere accesso. Quindi voi date un'occhiata comunque a queste 3-4 con Searchforge aziende leader in questo settore. Vedete se ce ne sono altre che vi possono interessare. Soprattutto se siete post serie 6, io ci farei un pensierino. L'altra cosa interessante è che sono comunque attività a bassa manutenzione. Cioè una volta che avete fatto il setup di queste email automatiche che vengono mandate per chiedere le recensioni, una volta che avete messo i soldi per pagare le carte buono di Amazon, tutto il resto tendenzialmente si fa da sé. Pensateci, ok? Sono curioso di sapere anche la vostra esperienza con queste piattaforme qui sotto. Io come al solito vi ringrazio per aver seguito questo video, fate le solite cose che vi chiedono in YouTube, iscrivetevi al mio canale, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Grazie.